Tranquillo d'ottimista, il sindaco di Pescara Carlo Masci va avanti per la sua strada, convinto che questo weekend può essere foriera di buoni consigli per chi mostra ancora qualche perplessità. Il nodo ormai noto è quello della composizione della giunta che a distanza di quasi 20 giorni non è stata ancora ufficializzata. Lunedì però c'è il primo consiglio comunale, convocato per le 18, una scadenza oltre la quale non si potrà andare. Da qui la decisione obbligata di Masci di convocare la prima riunione di giunta per lunedì mattina con l'unico tema all'ordine del giorno, le linee di mandato, in un sostanziale chi c'è c'è. E da questo punto di vista ci saranno sicuramente due neoassessori di Forza Italia, Luigi Albore Masci e Isabella Del Trecco, oltre ai due di Fratelli d'Italia, Alfredo Cremonese e Maria Rita Paoni Saccone. Probabile anche quello dell'Udc, Massimiliano Pignoli. La legge pone limiti sul numero massimo ma non dà indicazioni sul numero minimo, ci fa notare Masci, per cui la giunta di fatto è pronta. Spero che in questo weekend, avendo l'appoggio di 5 partiti su 6 della maggioranza, anche la Lenga aggiunga ad una definizione. La questione di fatto è tutta legata, fa intendere il neosindaco alle quote di genere. Sulle posizioni, più che sui nomi, il quadro è chiaro e da questo punto di vista, sottolinea ancora Masci, Pescara Futura e Amare Pescara hanno già fatto un passo indietro, affidandosi totalmente alle decisioni del primo cittadino. La Lega invece resta ferma sulle sue ragioni. A questo punto si parte con un'aggiunta parziale, sempre che nelle prossime 48 ore ulteriori riflessioni non portino ad uno sblocco positivo della questione. Intanto l'opposizione si dice sconcertata e preoccupata. C'è una scena surreale dentro al Palazzo del Comune perché gli uffici non sanno cosa portare avanti, ci sono degli appalti da concludere che non vengono conclusi, dei provvedimenti già esecutivi che non vengono fatti perché l'aggiunta non c'è e in tutto questo l'aggiunta è sulla carta, è bassa, non c'è nulla di concreto che faccia capire se e quando Pescara avrà finalmente un governo nel pieno potere. Questo è un prezzo che pagano solo i pescaresi perché la città è bloccata, non c'è un'idea neanche della programmazione estiva degli eventi, della cultura, del commercio, del turismo, quindi davvero è una scena surreale e la destra sembra non accorgersene perché è interessata soltanto a capire quanto potrà tirare questo braccio di ferro fra le due correnti che da vent'anni dilaino la destra pescarese che ormai è ferricorti.